Mi è sembrata in questi ultimi mesi una squadra più solida, più solida anche senza game, una squadra che crea, segna, ma allo stesso tempo prende pochi gol. Io personalmente la davo come favorita prima, mi ha sorpreso il punteggio, ti ripeto, però non che abbia vinto il Tottenham. Per finire, nel Madrid capisco l'ironia sul VAR e tutto quanto, però c'è da dire che nel bene o nel male, un po' come prima per il Serie A, il Real Madrid, anche quando fatica, e con l'Ajax ha faticato molto, poi ha i campioni, ha comunque la mentalità giusta per ribaltare le partite, e questa è una qualità chiave nelle partite di Champions, perché non sempre va tutto come vuoi, ci sono dei momenti in cui le devi prendere, devi soffrire, però non devi soccombere. Il Real Madrid, devo dire che soprattutto in Champions, è maestro in questa parte dell'incazzare, ma non senza controllare mai, quindi come ogni anno ci sono anche loro. Senti, per chiudere sulla Liga, pensi che la sconfitta del Madrid contro il Girona chiude ogni speranza per il Madrid, oppure è che l'unico anti-Barza può essere l'Atletico, ho visto che c'era lo scontro diretto, ma anche il Madrid poi ce l'ha, però i punti sono di più per il Madrid, sono nove, oppure c'era ancora la possibilità di rientrare se il Barza, speriamo di no, ovviamente io sto a fare tutti gli scongiuri, Alberto uguale, anche chi ci ascolta, dovesse grollare? Per me non è ancora finita, è chiaro che il Barcellona ha un grande vantaggio soprattutto dopo la sconfitta del Real Madrid, perché in conto sono nove punti, in conto sono sei, però fino a che il Barcellona non supererà i due scontri diretti, il clasico al Bernabéu e la partita contro l'Atletico in casa per me è il campionato ancora aperto, tutte le squadre possono togliere dei punti a tutte, il Barcellona sicuramente qualcosa in più in campionato, l'ha dimostrato fino ad ora, però non può adagiarsi su questo vantaggio, a meno finché non esce indenne da… i due scontri diretti che secondo me saranno giocati alla morte sia dall'Atletico che dal Real Madrid, perché nessuno vuole lasciare niente in un campionato come la Ligia. Io dico sempre una cosa, che il Barça crollando, giocando male, riesce a vincere, il Madrid crollando, giocando male, perde. Sì, in campionato questo è un grande evento del Barcellona, abbiamo parlato della capacità del Real Madrid di vincere le partite di Champions, anche quando gioca male, diciamo non è riuscito a replicare questo atteggiamento in campionato mentre il Barcellona sì. Questa è una grossa qualità ed è, come ho detto in precedenza, è impensabile che una squadra possa giocare 50-60 partite in stagione sempre alla stessa intensità, è sempre bene, quindi è fondamentale anche riuscire a fare punti quando le cose non girano per il verso giusto. Il Barcellona fino ad ora è già riuscito e per me rimane la favorita, senza poterle fare tutti gli sconduri, per capisco, però per me rimane la favorita della Ligia, certo non può pensare di averla già vinta, almeno finché non ha pronta per la seconda volta sia il Real che l'Atletico. Bene Luca, grazie, io vi ricordo che per leggere Luca Missori, capoledattore di passionedelcalcio.it potete andare su passionedelcalcio.it, lo trovate ovviamente su web ma anche sui social, quindi anche su Facebook e poi per chi sta a Roma la rivista Passione del Calcio mensile che noi abbiamo qui, grazie all'amico Antonio Pilato che ce la porta il lunedì quando fa la trasmissione dei poveri Lazialotti e quindi leggiamo noi di Roma, ma chi non è di Roma lo può leggere sul web, anche Luca Missori con i suoi articoli, in particolare sul calcio estero. Luca grazie di essere stato con noi, ci sentiamo presto. Grazie Alberto, buona serata. Ciao Luca, un abbraccio. Ciao, ciao. Benissimo caro Alberto, andiamo di corsa, c'hai qualche notizia, c'hai qualcosa altro da dirci e poi cominciamo a prendere i nostri che ce ne sono tanti della nostra redazione stasera. C'è una notizia che dice che l'Inter gli ha offerto un contratto a Rakitic. Sì, io sono Giuseppe Garibaldi. Anita, dove sei? Perché tu lo dicevi anche, no? Che non c'è la struttura economica per pagare a Rakitic l'Inter. Sì, no, assolutamente non ha questa cosa. Allora, Rakitic io credo che andrà via a fine anno, anche perché il Barça ha preso De Jong, però andrà al Paris Saint-Germain. Allora, ci andiamo a sentire, il gol dell'EU, purtroppo un gol in due partite abbiamo fatto, il gol dell'EU sul calcio di trattato da Rakitic, Ernesto Valverde nella conferenza stampa dopo la partita con il Vaglia Dolid e poi altre reazioni sempre della partita con il Vaglia Dolid. e quindi rientriamo subito dopo. Chutarà Leo Messi! Gol! Gol! Mol important del Barça, gol molt important de penal del Petitó. al Barça che non trovava la maniera di marcar il primo, il Valladolid comodo con un sistema ultradefensivo e Leo Messi che ha approfittato il penal che ha giulato Martínez Monoera per marcar il primo. Barça 1, Valladolid 0, gol di Messi di penal. Ha avuto molto poco fluido nel l'ataque, non abbiamo movito il ballo con la rapidità necessaria e al final ellos terminaban colocandose. Es verdad che al fin, bueno, questo è una... Los partitos sono largos, no? E quindi, claro, nel comienzo, sempre gli equipi sono un po' più ordinati, sempre sono più forti e, secondo il partito, il equipi che ha di correre molto detrasse della pelota generalmente sempre va acusando il desgaste, però in qualche caso, noi non abbiamo avuto fluido per poi lasciare a nostri jugatori di ataque in buone posizioni. Perché loro, è vero che hanno cambiato il esquema e non podono generare problemi in le nostre perdite, perché avevano gente d'arriva, però avevano momenti in cui sì che le podíamos fare daño. Io credo che la nostra circulazione non era lo suficientemente rapida come per poter deixare a nostri jugatori di delante in buone condizioni. Il secondo tempo ha sido differente, io credo che abbiamo generato ocasioni molto claras, il suo portero ha fatto un gran partito e di all'inizio che il risultato sia stato tan corto e abbiamo arrivato al final con esa incertidumbre di che qualche imprevisto non si può quitarle i punti. La gente sempre espera che sei brillante in tutti i partiti, e a volte non lo sei per circunstanti, perché non abbiamo stato accertato o abbiamo jugato male. Ora abbiamo un altro partito e sé che ora arriano 4 importanti, però diciamo i 4 e sembra che i 4 è una losa. Sì, vamos a empezar per il primo, poi arriviamo al secondo e iremo passo a passo, non siamo a giocare i 4 il stesso giorno. All'inizio hanno stato ben posti nel campo, hanno planteato un partito come in la ida, con difficoltà, soprattutto in nostri perdita, perché accumulava gente delante. No abbiamo sufrito ocasioni, però il balone rondava a veces situazioni di 3 contra 3, 4 contra 4, che abbiamo risolto, però che hai che tener cuidado con questo. E, hombre, la verità è che nel secondo tempo, se avviessemo marcado antes, o se non, se avviatemmo uno di chiudere, volvo a dire, il partito avviese… abbiamo tenido un'altra sensazione di.. di non sarà incertidumbre di ultima ora, che non abbiamo preso in alcune occasioni, però io che sé, sempre estás exposto. Come veniamo a parlare, abbiamo una serie di partiti, e hai giocatori anche che hanno con 4 amarillas, la idea sempre è fare un equipe competitivo e al stesso tempo avere la possibilità se abbiamo un problema durante il partito avere possibilità di cambi e in alcun caso si ha potuto condizionare stava convencido che ibbero a metter i due i penalti al final sempre li può fallare il che li tira però in qualche caso è un jugador abbastanza sicuro in qualche aczione viene per come si ha producito il partito la sensazione è che lo meglio è quedarsi con questa victoria si, si lo importante era sumare i tre punti già che hace tre partiti che non sumavamo quindi, per una parte bene però sappiamo che abbiamo che migliorare molto viene un partito molto difficili e abbiamo che stare a l'arturo per avanzare che abbiamo molti obiettivi per davanti così che tratteremo di migliorare in questi partiti che vengono e ora descansare che si viene il partito champion sicuramente lo meglio del equipo è che il equipo ha seguito generando la prima parte non avessi avanti in la seconda è vero che non hanno entrato però il equipo ha generato 5 o 6 occasioni molto claras sì, sì, è vero creiamo molte occasioni non le possiamo concretare però però no, abbiamo che migliorare ojalà che in prossimi partiti possiamo mettere più golli trattare di approfittare le opportunità però però l'importante è che oggi si sumò e speriamo estar il martes molto meglio che oggi te lo iba a comentare supongo che hai ganas di Champions anche, vero? ganas di ese partito di ottavos di finale sì, sì hai molti ganas di giocare Champions di di seguire avanzando nel campionato che è molto importante sumare e sabemos che viene un partito molto difficile così che proviamo a trattare di descansare di preparare in una miglior forma per iniziare a ganare tutti i partiti che vengono già ti ho la ultima Arturo ti hai la sensazione di che in questa temporada il Camp Nou cada vez sta più enamorato di ti lo dico perché ti ha llevato una buona evasione in esa ultima pelota che hai recuperato per acabar il partito sì grazie a Dio sì ho sentito molto apoyo aca il Nou Gant così che mi tiene molto contento spero seguir dimostrando o cada vez che mi toque jugar dejar il corazon in la cancha e seguir enamorando a la gente di Barcelona Arturo grazie grazie Arturo Vidal che aburri sono buona notizia teniasi un doble obiettivo che erano i recuperare sensazioni dopo i ultimi empates primo obiettivo conseguito il secondo non si tanto non abbiamo gioco bene la verdad che non è stato un gran partito molto meno la unica buona notizia ha sido la victoria volver a la senda de los 3 puntos sempre è importante dopo i due empates in liga però abbiamo di migliorare abbiamo di migliorare anche che le sensazioni non sono sono buone e per martes abbiamo di essere migliori se non lo passeremo mal perché os atascáis tanto contra unos equipos tan ordenados e con defensa de 3 centrales o hai más argumentos que justifiquen esa falta de fluidez en el juego si es verdad que los contrarios juegan obviamente los equipos intentan plantearnos partidos difficiles pero creo que es más que no nuestro en contrarota de la fluidez del juego a partir de ahí hemos ganado todo lo que hemos ganado y si no le damos rapidez a la pelota si no tenemos más posesión si no controlamos el juego y a partir de ahí creamos las ocasiones nos convertimos en un equipo más débil y eso lo sabemos y los equipos también lo saben entonces hemos de mejorar eso algunos de tus compañeros la semana pasada para explicar esa falta de prescura hablaban del cansancio por la acumulación de partidos esta semana habéis tenido descanso quizá ese argumento no sirve en el día de hoy bueno eso es más en línea de otras temporadas de que bueno de que obviamente hay muchos partidos y al final pues cuando enganchas la dinámica de tres o cuatro partidos seguidos sin descanso pues las penas pesan hoy sí que es verdad que teníamos una semana de descanso y nada ya te digo no no hemos encontrado las sensaciones que queríamos no descansas lo has jugado todos los minutos no necesitas ese descanso bueno eso es una de todo bueno a mí a veces me pregunta yo le digo para ayudar al equipo y nada pues el martes otra otra batalla para intentar pues en Champions sacar un buen resultado para la vuelta y no la última para ti penalti claro el que te hacen ¿cuál de los dos? el último bueno el que señalan el del agarrón no sé a cuál de otros te refieres bueno al cafallero el Leo no pero me refiero al que te hacen a ti claro ¿qué me hacen a mí? bueno a mí me tocan por detrás me desestabilizan me cogen del hombro y a partir de ahí pues bueno me caigo yo creo que es penalti luego en la tele siempre se ven las cosas distintas pero en el campo tal como lo he sentido yo era penalti suficiente contacto por tanto para caer suficiente para mí sí venga vosotros las palabras de Yerapi que el jugador del FC Barcelona el otro no ofrecía evidentemente tanta discusión aunque ha sido revisado por el VAR y un penalti que estuvo bueno todavía sigue abrazándose Jordi Massip el jugador del Real Valladol el guardabeta cuántos abrazos te están dando tus compañeros y también del FC Barcelona ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches ¿qué sensaciones te deja este partido? bueno un poco agridulce al final hemos tenido alguna opción para poder empatar no ha podido ser el equipo ha dado la cara hemos competido súper bien hay que estar orgullosos es curioso ¿no? que el orden ha sido la principal virtud vuestro defensivo y una vez que os desordenáis es cuando llega esa jugada ese contragolpe con el primer penalti y el primer gol sí ellos saben que que si juegan rápido nos pueden pillar que es la única manera mejor de desarbolar un poco la defensa y lo han conseguido un penalti bueno no lo he visto no sé si es si no es y nada han conseguido el gol y bueno felicitarles ¿cuántos penaltis le has parado a Leo Messi en los entrenamientos cuando estabas en el Barça? pues no lo sé la verdad es que no muchos tampoco los tiran muy bien el primero no he podido el segundo he tenido suerte de acertarlo y poder pararlo pero nada los dos los has acertado uno es verdad que iba más ajustado al otro has podido pararlo no sé si entiendes que esa es la zona quizá de seguridad de Leo Messi por eso te has tirado en ese lado bueno hoy hemos decidido tirarnos ahí nos ha salido bien el primero no hemos podido la he tirado muy bien el segundo he tenido alguna opción más no hemos podido parar y nada seguir trabajando ¿y como has visto al Barça por debajo del nivel habitual? no ellos tienen el control del partido no les crean muchas ocasiones en su fútbol saben que tienen que controlar el partido hasta el final así ha sido y no hemos tenido